buongiorno oggi vi presentiamo un audi a4 avant s4 355 cavalli benzina turbo e volumetrico anno 2009 chilometri poco più di 75 mila guardate che splendore cerchio in lega 19 pollici sensori di parcheggio tetto apribile interni in pelle logo s4 serigrafato sui sedili interni sportivi quattro ruote motrici cambio automatico sempre taglia andata ufficiale in audi certificazione del chilometraggio viva voce bluetooth pedal del cambiate cambiastronica al volante navigatore satellitare climatizzatore automatico bizona l'audi multimedia system sistema mmi con la regolazione sia dello sterzo che del differenziale o da risposta il motore pinze freni maggiorati regolazione elettrica dei sedili come potete notare certificazione completa dei tagliandi sempre in audi al concessionario di riferimento di zona nero metallizzato nero perla profondo colore audi molto particolare venite a vederla sempre il suo appuntamento grazie